Ciao a tutti, sono Giuseppe. Oggi vi parlo di un software a corredo di Biblos, cioè il software di traduzione che ho intitolato Biblos Interface Editor. Biblos Interface Editor serve, diciamo è funzionale, è un software funzionale a Biblos che ho scritto per tradurre l'interfaccia utente, per tradurre gli aiuti in linea, per tradurre i caratteri e per tradurre l'ultima cosa che ho aggiunto, i grafici tattili, quelli contenuti nell'archivio. Bene, così faccio un video, diciamo diverso dal solito, perché è giusto che le persone che utilizzano Biblos o interessate a Biblos conoscono tutti gli aspetti del mio programma. Allora, c'è questo programma che si chiama Biblos Interface Editor che viene installato quando si installa Biblos. Infatti nel menu Start voi avete un sottomenu, all'interno dei programmi avete un sottomenu Biblos, Biblos 5, Biblos 4, vabbè attualmente è Biblos 5 e all'interno del sottomenu di Biblos c'è anche Interface Editor. Ok, questo programma serve per tradurre Biblos. Come notate qui ha quattro schede in cui ci sono le varie sezioni di Biblos da tradurre. Qui siamo per esempio nella scheda Interface. Interface contiene tutte le scritte che vengono fuori col programma, cioè qualsiasi testo, qualsiasi cosa è qui dentro la scheda Interface. Infatti questa scheda possiede, almeno per ora, è sempre in aumento questa scheda, possiede 4179 elementi da tradurre. Interface name uguale italiano. Interface name x uguale italian. 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 Queste all'inizio sono delle informazioni tecniche che in genere traduco io, a parte le stringhe testuali, ma i numeri... Andiamo un po' avanti. OK, fermiamoci qui che ci sono due elementi diversi. cioè questo qui la prima è un'etichetta, ciò che viene dopo l'uguale e il testo da tradurre si batte invio, qui c'è il testo da tradurre, e si traduce, il testo da tradurre è predefinito, cioè il testo è proprio predefinito, la stringa, mentre in questo campo di sola lettura appare sempre il testo originale, purtroppo essendo io italiano il testo di partenza da cui tradurre è sempre l'italiano, perché sarebbe un errore andare a tradurre per esempio dall'inglese, perché a parte che l'inglese per ora lo traduco io, posso commettere, sicuramente commetto degli errori, però anche se lo traducesse qualcun altro, magari potrebbe fare degli errori di traduzione o potrebbe interpretare diversamente il testo italiano che io ho voluto nel programma e poi conseguentemente le persone, cioè gli altri traduttori che si appoggiassero alla traduzione inglese commetterebbero di conseguenza gli stessi errori. Qui c'è un'altra riga, una particolarità di queste righe, mi sono fermato qui proprio perché quella era una riga semplice. Questa è una riga composta da diversi elementi. Quindi non solo ci sono 4179 elementi, ma alcuni elementi hanno vari elementi da tradurre al loro interno. Qui si fa sempre in via, si traduce a linea puntata e si ribatte in via. Il programma Biblios Interface Editor, io ho preferito lasciarlo, scriverlo in inglese come testi dei menu, del programma, dei messaggi e così via, perché le persone di altri paesi è giusto che interagiscono col programma in inglese perché non tutti conoscono l'italiano o lo conoscono in parte, anche se, ripeto, c'è la questione della lingua di partenza, di origine da tradurre. E quindi il programma è solo in inglese. Sarebbe stato, diciamo, difficoltoso per me andare a linguificare, diciamo così, anche il programma di traduzione, perché poi chi mi avrebbe tradotto i file del programma di traduzione sarebbe stato, diciamo, una catena continua. Infatti, qui, per esempio, faccio venire fuori il menu contestuale, c'è copy from, che serve a copiare l'elemento in cui ci si trova da una interfaccia già compilata, change il tasto invio che abbiamo, cioè che ho premuto prima, quindi premendo invio si apre una mascherina, si traduce, si ribatte invio e il testo è tradotto. Restore serve per ripristinare il testo tradotto, cioè riportarlo al testo di origine, cioè il testo italiano. Find è il comando di cerca. Find next è il comando di continuare la ricerca con il testo c'è inserito. Jump to line serve per saltare a una linea prestabilita, noi abbiamo visto che ci sono 4179 righe, se si vuole saltare alla riga 1000 si utilizza questo comando che scrive 1000 e il programma va alla riga 1000. Poi c'è back che serve ad andare indietro, a cercare all'indietro una linea ancora non tradotta e poi c'è next che serve a cercare in avanti una linea non tradotta. Il programma è indispensabile per sincronizzare il mio lavoro di sviluppatore con il lavoro di traduzione che fanno le varie persone, perché se non ci fosse questo programma, quando io aggiungo qualcosa all'interfaccia sarebbe molto difficile andare a capire cosa io ho aggiunto, invece utilizzando questo programma e utilizzando appunto questi comandi, chi traduce Biblos attualmente sincronizza il suo lavoro col mio utilizzando proprio questi strumenti di next, back per andare a cercare subito la linea da andare a tradurre. Ora facciamo un esempio, qui c'è il menu file, quello era un sottomenu associato a questo elenco, mentre c'è il menu file dell'applicazione, di tutta l'applicazione, che ha altri comandi, cioè new per pulire e andare su un nuovo progetto, open per aprire un progetto di traduzione, save per salvare il progetto di traduzione, save as per salvare con un nuovo nome il progetto di traduzione, make per generare il file che serve a Biblos da utilizzare all'interno del programma. Stats sono le statistiche, appare una finestra dove viene mostrato quanto ancora manca da tradurre per tutte le quattro schede. Poi c'è About con le mie indicazioni, cioè lo sviluppatore del programma sono io con le mie informazioni e poi Exit per uscire. Ok, tutto qui il programma, non ha niente di difficoltoso, anche se al suo interno è abbastanza complesso come struttura, però il programma in genere è tutto qui. Ora vi faccio vedere anche le altre schede. Carichiamo una lingua, per esempio, carico il portoghese, il brasiliano portoghese, faccio controllo per aprire, qual'era? ptb.blf, questo è il brasiliano portoghese, e ptb.blf.blf language file. Ok. E qui abbiamo interface name portughese do Brasil, io non so parlare brasiliano. Ora se io volessi andare a cercare la successiva linea da tradurre questa è una linea che si potrebbe tradurre ma non importa questi sono dati tecnici quindi poi si può lasciare benissimo così ok questa è una riga che all'interno dell'interfaccia brasiliana portoghese ancora non è tradotta io ho premuto control freccia giù che serve ad azionare dare un click al comando next così come c'è scritto qui next control down ok ctrl contro freccia giù e il programma mi ha portato in un attimo in questa riga che deve essere ancora tradotta ok poi c'è la scheda help che serve a tradurre l'aiuto in linea per esempio batto invio è la stessa tecnica utilizzata dall'altra parte ma per quanto riguarda gli aiuti in linea translation title e questo qui questo è il testo originale del titolo tab google pulsante qui c'è il comando google per andare a tradurre con google e questo questo è il help tradotto o meglio non è ancora tradotto è tradotto solo il titolo il manuale descrive finestre strutture concetti e logica di base dell'ambiente braille per chi si avvicina per la prima volta al sistema braille il gergo utilizzato potrebbe non essere del tutto chiaro tuttavia il manuale forma del tutto integrazione chiarificazione vuoto ok e qui questo manuale è scritto da giuseppe di grande che ne detiene tutti i diritti e qui si effettua la traduzione tab origin messaggio editazione sola let tab google pulsante escape vivos inter usciamo qui c'è sempre un menu contestuale con applicazioni menu contestuale cange punto 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 enter change per cambiare c'è per modificare o tradurre il titolo e il messaggio restore del restore per eliminare diciamo la traduzione find per cercare find next giunto line back next remake serve per diciamo queste cose le utilizzo io quando prima di pubblicare gli aggiornamenti remake serve per diciamo rifare rifare ridare alcune informazioni ai file dell'elp add punto 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 add per aggiungere un nuovo help properties punto 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 properties per per modificare le proprietà di un aiuto in linea poi c'è unicode tab unicode la scheda unicode e qui ci possiamo sbizzarrire perché unicode un of 13.351 ci sono 13.000 erotti termini questi sono i caratteri 34 aspas unicode infatti vedete il numero del carattere il codice del carattere unicode e poi la traduzione cancelletto 35 cardinal dollaro 36 per cento 37 per cento e commerciale 38 e commercial ok questa scheda è importante tradurla sì anche per il programma perché il programma mostra eventualmente i nomi dei caratteri ma è importante tradurla per i lettori di schermo perché sia Giosu che la donna di NVDA si appoggiano a questa cioè si appoggiano a Biblos che utilizza questi dati per leggere i nomi dei caratteri quando voi vi muovete dentro Biblos con le frecce a destra a sinistra il nome dei caratteri viene tradotto da qui cioè viene preso da qui da questi dati e poi c'è qui c'è il solito aiutellino ormai lo sappiamo change restore find ok stessa cosa stessa cosa dell'altro shift tab unicode tab tactile tab e poi c'è la scheda tactile tab che è una scheda che traduce i titoli e le descrizioni dei grafici tattili contenuti nell'archivio categorie sarchi uguale archi questa è una scheda che per ora ho messo in secondo piano perché sto modificando il sito internet sto modificando diciamo sto riscrivendo il sito internet e quindi non è perfettamente funzionante si si possono tradurre ci si può portare avanti ma ancora non è perfettamente funzionante la traduzione dei grafici tattili che per ora ho lasciato dentro biblos solo in inglese fine oter sbarra dante alibieri desco uguale oter sbarra dante alibieri titoli uguale dante alibieri oter sbarra che sbord desco uguale oter sbarra che sbord titoli uguale che sbord ok e basta ricordo che gli attuali traduttori di biblos sono alcune persone che ora vengo a citare che le traduzioni attive sono quella inglese che faccio io purtroppo anche se sono in trattativa con un signore statunitense che forse 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 si prenderà in mano sta traduzione speriamo comunque poi c'è la traduzione di elio medici dalla dalla svizzera che traduce in francese poi c'è la traduzione di pedro zurita dalla spagna che traduce in spagnolo c'è la traduzione di cassio santos dal brasile che traduce in brasiliano portoghese poi c'è la traduzione di gradimir kragic sì credo che sia questo il cognome che traduce in serbo in caratteri latini e tra l'altro gradimir ha anche sviluppato una tabella braille per la lingua serba sia in caratteri latini che in caratteri cirillici poi ci sono delle traduzioni in sospeso o che vanno molto a rilento quelle che vanno a rilento sono la traduzione di angela dall'olanda per l'olandese è la traduzione di lyubmila in russo per il russo dall'ucraina e la traduzione credo che sia ormai morta è quella croata di zoran che forse l'ha lasciato semplicemente andare c'è stato un accenno di traduzione in polacco che è subito fallito diciamo dopo dieci linee di traduzione credo che sia stato abbandonato da Zbigniewi comunque qualcosa del genere era un ragazzo polacco che si era proposto comunque questo è tutto il lavoro che c'è dentro Biblos non è un gioco tradurre Biblos però come dico sempre a chi si propone di lavorare chi si propone di tradurre l'interfaccia e tutto il resto di Biblos dico il lavoro duro è solo quello iniziale poi a mantenere il lavoro successivo man mano che aggiungo i vari help i vari help i vari i vari testi dell'interfaccia è molto più semplice cioè in pochi minuti poi poi si fa bene bene mi sono dilungato parecchio comunque la vita dei traduttori è una vita difficile senza questo programma sarebbe ancora più difficile fare questo lavoro perché come avete visto dalla mole di cose da fare che c'è è un lavoro vero e proprio e io ringrazio le persone che lo fanno e lo fanno in modo gratuito grazie grazie a tutti ok ci sentiamo alle prossime da Giuseppe è tutto ciao